Da domani, lunedì 26 aprile, l'Abruzzo torna a tingersi di giallo. L'allentamento delle misure restrittive per il contenimento dei contagi non prescinderà tuttavia da mascherine e distanziamento, armi fondamentali per la lotta al covid validamente supportata dalla campagna vaccinale che, rispetto all'anno scorso, sarà l'arma in più che farà la differenza in questo secondo anno di pandemia. Gli spostamenti tra regioni gialle tornano liberi, mentre tra quelle di colori diversi, si potrà viaggiare solo con il cosiddetto passaporto verde, che presuppone tre possibilità. Un certificato di effettuata somministrazione del vaccino, un esito di tampone negativo nelle 48 ore precedenti il viaggio o l'attestazione di una recente guarigione dal covid. In estrema sintesi, insomma, un certificato di non contagiosità. Visite a parenti ed amici sono consentite, ma una sola volta al giorno. In zona gialla, scuole, dai nidi alla terza media e università, riapriranno in presenza. Alle superiori la didattica in aula sarà al 100% per le classi quinte e al 70% per tutti gli altri studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che dovranno alternarsi con un 30% di didattica a distanza. Da domani riapriranno i musei, che potranno accogliere il pubblico anche nel fine settimana, ma in quest'ultimo caso con obbligo di prenotazione. Cinema e teatri potranno tornare ad ospitare il pubblico con obbligo di distanziamento e capienza limitata al 50%. Via libera anche per gli spettacoli all'aperto, con regole precise per garantire la sicurezza. Bar e ristoranti potranno riaprire anche a cena, ma al momento il servizio alla clientela sarà possibile solo in spazi aperti, fermo restando il rispetto degli orari in funzione del coprifuoco, che resta confermato dalle ore 22 alle ore 5 fino al 31 luglio, salvo eventuali revisioni. Dal primo giugno via libera alle consumazioni e ai tavoli anche al chiuso, ma fino alle 18. Resta confermato il divieto di banchetti e feste private. Sul fronte del commercio la zona gialla consente la riapertura di tutti i negozi, con chiusura confermata per le gallerie dei centri commerciali nei fine settimana. Via libera alle attività sportive anche di contatto, ma solo in spazi aperti. Per le piscine all'aperto si dovrà aspettare il 15 maggio, data prevista anche per la riapertura dei lidi e dunque per l'avvio della stagione balneare. Le palestre invece riaprono il primo giugno. Nel calendario delle ripartenze messo a punto dal governo, altra data da considerare sarà quella del primo maggio, con l'apertura al pubblico negli stadi per assistere a eventi sportivi, ma in numero limitato. Infine, dal primo luglio, via libera a fiere ed eventi, parchi tematici e centri termali. Nessuna indicazione al momento per discoteche sale da ballo. Per gli esperti, infatti, non ci sono ancora le condizioni per una riapertura in sicurezza.